Come sono diventati, amici? Strano, vero? Le coppie di animali così diversi sono il top! Come si saranno conosciuti? È davvero esasperante. Il sito della Handler dovrebbe pubblicare il titolo del musical di primavera, ma finora niente di niente. Che senso ha programmare le audizioni se non sappiamo su che cosa prepararci? Ho controllato ogni cinque minuti nell'ultima ora, ma adesso la smetto. Ok, non dicevo sul serio, era solo uno sfogo. E via! La candidatura per il California Music and Food Festival delle due Barbie è stata spedita! Oh, grazie Rafa! Sei un manager grandioso! Cantare a quel festival sarebbe un sogno che si avvera! Figuratevi! Passo praticamente ogni minuto della mia vita per portare voi due al top, se solo qualcuno riconoscesse il mio impegno! Una capra e uno scogliattolo! Grazie, Daisy! Come saranno diventati amici? Ciao, ragazzi! Ehi là! Yuhu! Come dici, Buddy? Siamo rimasti senza muffin? Cosa? Scherzo! Volevo distrarvi dallo stordimento dei telefoni per farvi riconnettere tra di voi. Tornate pure ad essere controllati dal robot che avete tra le mani. Intendeva per caso che siamo dipendenti dal cellulare? Oh, questo non è assolutamente vero! Dovete vedere questo video di un baby elefante che skipper me! Oh, forse Epifani ha ragione. Mi sento osservato, è quasi esposto. Brooklyn? Forse il browser non funziona. Provo a riavviarlo. Ehi! Forse a noi serve un riavvio! Che ne dite di stare un po' senza telefoni per riconnetterci tra di noi? Saremo la squadra in pausa dagli schermi! Mi piace l'idea! Le cappie di animali diverse sono così carine! Ma non possono essere al centro del mio weekend a New York? Ci sto anch'io! Disintossicazione elettronica fa bene all'anima e alla pelle. Direi squadra in pausa dagli schermi tutte le volte che siamo da Buddy. Perché solo qui? Niente telefoni anche mentre torniamo in treno. Tutto qua! E se aggiungessimo un'altra ora di pausa dopo che siamo rientrate? Non ci penso nemmeno. Ma come vedi, la squadra in pausa dagli schermi è formata da quattro persone e non da tre. Senti, prima so quale spettacolo vuole fare la Handler. Prima posso imparare la canzone e prepararmi per l'audizione. È il mio lavoro! Sono di nuovo online! Il titolo del musical di primavera di quest'anno verrà pubblicato a breve. Strano, non lo conosco. Ha vinto un Tony? Sapete una cosa? Va bene, ci sto. Tu non puoi comandarmi. E per dimostrarlo, pausa dagli schermi per 24 ore. Che c'è? Se lo vogliamo fare, facciamolo bene!